Non c'è il ministro Giorgetti che però ha portato in Consiglio dei Ministri, che ha approvato una norma di equità sociale, mi permetto di dire, che è un prelievo sugli extraprofitti delle banche nel 2023, limitato al 2023. Tutti gli introiti andranno a due voci, aiuto per i mutui prima casa, sottoscritti in tempi diversi rispetto agli attuali, e taglio delle tasse. Sostanzialmente dove si va a incidere, l'innalzamento dei tassi voluto dalla BCE ha portato a un innalzamento del costo del denaro per le famiglie e per le imprese. Non c'è stato altrettanto veloce, solerte e importante aumento per quello che riguarda i consumatori che hanno dei depositi sui conti correnti. Quindi se è aumentato ed è arrivato a raddoppiare l'onere del costo del denaro per gli risparmiatori, le famiglie e le imprese, non è parimenti raddoppiato quello che viene dato al correntista. E quindi in questo gap, in questo range, si verrà a contare un 40% di prelievo dagli extraprofitti multimiliardari delle banche. E questo fondo, che si può ipotizzare sarà abbastanza congruo, andrà ad alimentare le voci taglio del cuneo fiscale, taglio delle tasse e sostegno alle famiglie per i mutui sulla prima casa. Non entriamo nel merito delle cifre, però basta guardare gli ultimi del primo semestre 2023 delle banche, anche figli dell'innalzamento dei tassi della Banca Centrale Europea, per capire che non stiamo parlando di qualche manciata di milioni, ma stiamo parlando, si può ipotizzare, di alcuni miliardi. Questo è quello che il Ministro Giorgetti ha portato all'approvazione e il Consiglio dei Ministri ha saggiamente approvato.